Qui a Cesena, in Romagna, nuove idee in uno spazio nuovo di Conf Cooperative perché si possano creare occasioni di lavoro, co-working, co-up-up, star-up, è il nuovo che si sta aprendo. Conf Cooperative intende in questa occasione mettere un altro semino a beneficio del territorio. La possibilità per i giovani che hanno idee innovative, ma non solo per i giovani, tutti coloro i quali stanno partendo con un'idea imprenditoriale, non hanno ancora la spalla economica per poter essere autonomi nella gestione di un ufficio, questa è l'occasione per poter stare insieme, quindi confrontarsi fra loro e noi auspichiamo anche poter mettere in piedi un'idea cooperativa. Il cop-up con le postazioni co-working è un progetto nazionale di Conf Cooperative che vuole agevolare, è un incubatore di imprese che vuole agevolare la nascita e la partenza di idee imprenditoriali. Questo è un punto che a parere mio si è messo in sinergia con la fondazione della Cassa di Spalmio di Forlì, di Cesena, di Multifor, l'Università, la Camera di Commercio, può avere una grossa potenzialità in quanto permette a nuove idee imprenditoriali di avere il punto di partenza. Ha vicino il nostro centro servizi che è Ceseco, quindi con tutto il supporto da un punto di vista fiscale, previdenziale e quindi insomma direi che è l'ottimale per far partire una nuova impresa, soprattutto per le Walker Buyout che sono le imprese che nascono da aziende in crisi.